Non esistono macchinari che possano riprodurre la qualità artigianale della carta fiorentina di Viola Gambazzi. Questo elegante portafoglietti con penna coordinata in carta fiorentina è un oggetto ideale per un piccolo regalo o per adornare la propria scrivania. Il prodotto è disponibile in vari modelli e colori anche con la matita in alternativa alla penna. Questi e tanti altri articoli in carta fiorentina puoi trovarli su www.echiantishop.it oppure puoi chiamare lo 055 64 2259 per avere maggiori informazioni.